Benvenuti nel podcast di Cambiare Tutto, cambiare subito, previsioni sull'economia e la finanza. Vi ricordo come al solito che in nessun caso i prodotti citati vogliono essere una sollecitazione all'acquisto, ma vengono citati solo a scopo informativo. Tutto quello che ascoltate sono frutto di liberi pensieri e di opinioni personali, pese in autonomia e senza nessun conflitto di interesse. Nuova puntata e oggi voglio parlare un po' di qualcosa che mi chiedono spesso in privato. Andremo più che altro a esaminare tre azioni, Fineco, Unicredit e Banca Intesa. azioni che vengono molto spesso citate nel gruppo e su cui mi chiedono molte informazioni. Tra l'altro sono tra le più trattate nella borsa italiana, soprattutto Intesa e Unicredit. Prima cosa su cui mi voglio soffermare quando parliamo di queste aziende è il fatto che spesso dico guardate non è il caso di puntare su due o tre addirittura di queste azioni bancarie perché sono finanziarie, sono dello stesso settore e non è cosa buona come tra l'altro andremo a vedere oggi perché vi farò alcuni esempi e vi farò capire di quanto sia inopportuno dal mio punto di vista puntare su due o tre di queste azioni che ho citato prima. Prima di tutto andiamo a vedere un po' quelle che sono le caratteristiche di queste tre aziende. Diciamo che Unicredit e Intesa si somigliano molto perché sono praticamente due BIC del settore finanziario, due BIC italiane, Banca Intesa è la più grande, Unicredit la segue e quindi molto spesso inevitabilmente si parla di queste due aziende. Inoltre dire che non sono delle banche che fanno i servizi bancari di una volta ma sono all'interno di altre società, soprattutto Intesa negli ultimi anni ha comprato un bel po' di partecipazioni di tante buone aziende. Non vado qui a citarle, non è la motivazione del perché ho fatto questo podcast ma la motivazione del perché ho fatto questo podcast è proprio il cercare di far capire quanto sia inopportuno appunto fare o meglio inserire nel proprio portafoglio tanti bancari. Prendiamo queste tre ad esempio e cominciamo a fare un confronto tra Intesa e Unicredit che sono quelle, come abbiamo detto di più, che si somigliano di più, come abbiamo detto. Perché se andiamo a fare un paragone tra Intesa, un confronto tra le due azioni, come si sono comportate sul mercato, andiamo a vedere che praticamente il loro confronto è stato quasi praticamente parallelo, cioè quando si alzava una si alzava anche altra e viceversa, tranne qualche rara eccezione. Una delle cose che si può vedere è che, se confrontiamo le due aziende, è che una delle due ha performato quasi sempre meglio, sia a breve che a medio che a lungo termine. E questo perché? Perché generalmente le azioni di una delle due hanno seguito semplicemente quello che poi è stato, sono state le trimestrali, quindi come si è comportata nel tempo i conti economici dell'azienda, quindi praticamente mettendo a raffronto come sono messe finanziariamente le due aziende, come se sono riuscite a fare profitti le due aziende, se hanno avuto problemi le due aziende, mettendo a confronto queste due cose vediamo che spesso l'azione si è mossa in conseguenza di quelle che sono stati i risultati economici, sia ben chiaro, entrambe non stanno messe malissimo economicamente, a me piace molto intesa, che non a caso poi è quella che si è comportata meglio tra le due, perché facendo un parallelo la cosa che si può vedere è costantemente intesa sopra per forma unicredit e questa è una delle prime considerazioni, cioè se andiamo a fare il confronto intesa si comporta sempre meglio di unicredit e quindi già qui il risultato è semplice, inutile avere unicredit intesa insieme, perché è inutile averle insieme? perché se io mettessi 1000 euro su intesa e 1000 euro su unicredit, una guadagnerei sempre di più e quindi non avrebbe mai mai avuto senso, senso, averne entrambe in portafoglio e non solo ma andremmo a metterle su due aziende in cui sono nello stesso settore e quindi se quel settore va male entrambe perdono, molto probabilmente unicredit perderebbe di più ma perderebbe anche intesa, quindi non solo avremmo un cavallo zoppo da portarci dietro ma praticamente rischierebbe di morire proprio questo cavallo se le cose vanno male e non ha nessun senso visto che già il cavallo ce l'abbiamo e questa è la prima considerazione ma purtroppo mi tocca spesso sentire altre cose che cioè si hanno più bancari nel portafoglio e qui la cosa aumenta ancora di più perciò ho voluto aggiungere anche Fineco insieme a queste altre due parlo di Fineco unicredit intesa non solo perché se ne parla molto spesso non solo in privato ma anche nel gruppo ma perché sono, almeno Fineco è una delle migliori una di quelle che consiglio di più perché hai conti secondo me molto meglio di unicredit intesa anche se intesa, se andiamo a vedere come banca una delle cose positive che ha che è molto diversificata in vari settori cioè ripeto queste non sono più banche dove non so, fanno solo il mutuo o fanno solo il prestito sono attività finanziarie che veramente spaziano in vari ambiti talmente tanti che non ve le sto qui a dire potete fare una ricerca su Google come dico sempre e vedete intesa in quante aziende sta tra l'altro aziende che io reputo pure ottime come Nexi, giusta per dirne una e quindi mettendo anche Fineco giusto per farvi capire la differenza quando si inseriscono più bancari nel portafoglio andiamo a fare il confronto tra le tre e se andiamo a fare il confronto tra le tre ci troviamo un'altra situazione e quale situazione ci troviamo? ci troviamo che Fineco ha performato meglio sia di Unicredit sia di Intesa questo sia a breve che a medio che a lungo termine è ancora una volta lo stesso discorso che facevamo per Intesa quindi non avrebbe nessun senso a questo punto avere nel portafoglio Unicredit, Intesa e anche Fineco perché? Perché invece di un cavallo zoppo avremmo due cavalli zoppi e se il settore va giù ha dei problemi avremmo tre problemi molto probabilmente due due che prosto non fa dire e una che riuscirebbe a salvarsi questo chiaramente lo diciamo in via teorica ma per far capire che avremmo molti più problemi e non molti più guadagni ma molto più problemi è chiaro che il settore se va bene guadagneremo su tutte e tre ma anche a questo punto non avrebbe nessun senso avrebbe senso puntare i nostri soldi sul cavallo vincente chiaramente sempre diversificando in settori e non puntando su un settore solo questo deve essere ovvio questo proprio per far capire che a questo punto bisognerebbe sempre fare un'analisi quando si vuole puntare su un'azienda cercando di scegliere la migliore perché questo che vi sto dicendo chiaramente è basato sul passato e quindi noi l'unica certezza che abbiamo del futuro come dico spesso è l'incertezza è inutile quindi consigliarvi come ripeto più volte anche all'inizio del podcast comprate Fineco e non comprate Intesa o Unicredit perché domani Unicredit potrebbe fare molto meglio sia di Intesa che di Fineco però ci tengo a sottolineare l'ennesima cosa come ho detto per Intesa guarda caso Fineco riesce anche qui a sovraperformare perché ha semplicemente i conti meglio di Unicredit e meglio di Intesa anche se se la gioca con Intesa ma ripeto se tu vuoi fare un paragone se su Unicredit Intesa c'è una certa logica mettendo Fineco già è un altro tipo di azienda per esempio Fineco ha soffrito molto del fatto di essere un'azienda molto digitalizzata un'azienda che è molto diciamo basata sul virtuale più che sul reale quindi ha molti meno costi da sostenere rispetto a banche come Intesa Unicredit è ovvio questa cosa qua giusto per farvi un esempio e questo lo si vede nei propri conti quindi è un vantaggio non indifferente questo però è molto più piccola rispetto a Unicredit Intesa e questo è un grosso svantaggio bisogna quindi considerare bene le cose tra l'altro un'altra cosa che si può vedere che è diversa Fineco rispetto a Unicredit e rispetto a Intesa a livello di azione parlo è la volatilità che ha quest'ultima è interessante una cosa che ho notato che uno degli azionisti di Fineco anche di Intesa per esempio è BlackRock e BlackRock su Fineco rispetto a Intesa ci fa anche proprio del trading ne ho visto uno il 14 di maggio bello pure pesante di qualche che siamo a livello di un milione e due mi pare che era ora non me lo ricordo però guardando tutti i dati mi era caduto proprio all'occhio questo proprio questo scalping più che altro perché è stato fatto non solo in giornata ma una cifra molto vicina tra loro la differenza era poca quindi è stata fatta e chiaramente in un breve termine in un breve relasso quindi è evidente che hanno fatto una sorta di scalping tra l'altro andandoci anche a perdere da quello che ho visto con i numeri questo per far capire quanto invece i movimenti quindi la volatilità di Fineco potrebbe essere più alta rispetto per esempio a un titolo come Intesa che è molto più stabile rispetto anche pure a Unicredit queste sono un po' di considerazioni che vi voglio fare sul titolo più che altro con proprio l'idea principale di far capire a molti che mi contattano quanto sia diciamo inopportuno come sto ripetendo più volte averle tutte nel portafoglio anche perché poi si vanno ad avere delle azioni che semmai incominciano a lateralizzare e vedrai che alcune stanno in perdita e altre invece guadagnano ti fa capire proprio l'evidenza di quanto sia sbagliato fare questa scelta una delle cose che mi fanno notare quando io dico guardate dovresti veramente trovare una soluzione a questa cosa perché è veramente inopportuno come dicevo tenerle tutte e tre mi dico ma guarda sono in perdita quindi non me ne posso uscire con la perdita e invece sarebbe la cosa più giusta da fare se uno ci pensa facendo una cosa che io cito poco ma che bisognerebbe sempre fare e cioè avere una exit strategy che bisognerebbe fare chiaramente un piano prima di comprarsela ma che si può sempre fare una exit strategy non sto a spiegarvelo forse farò un po' su come si fa una exit strategy o meglio su come penso io bisognerebbe farla molte volte anche qui è tutta una questione psicologica perché ovviamente nessuno è abituato alle perdite ma soprattutto perché a nessuno piace perdere anche a me non piace perdere soldi e nessuno piace ma certe cose le vedo come cose inevitabili anzi la cosa positiva di perdere di chiudere un'azione in perdita è che comunque si vanno ad accumulare minusvalenze e quindi possono compensare in un'eventuale vendita con dei profitti e questa è una cosa che bisognerebbe sempre prendere in considerazione anche perché ci sono alcuni casi dove alcune azioni per riprendersi ci vogliono anni ci vogliono davvero anni e intanto in quegli anni lì che tu hai lasciato praticamente l'azione in perdita le avresti potuto guadagnare su un'altra azione anche dello stesso settore visto che come stavamo dicendo stiamo facendo un paragone tra Fineco Intesa e Unicredit facciamo l'esempio pratico se oggi abbiamo Unicredit Intesa e Fineco dobbiamo decidere su quale puntare in base a cosa l'ho detto fino a poco fa abbiamo visto che le azioni si sono mosse in base a come erano le trimestrali cioè se le trimestrali erano buone e avevano una costanza cioè l'azienda riusciva a fare dei profitti e quindi ad avere degli utili e quindi a comportarsi bene sotto questo punto di vista l'azienda l'azione reagiva bene quindi non c'è mai stato uno sbalzo diciamo anomalo sotto questo punto di vista e se consideriamo questa cosa qui sarebbe assolutamente inutile appunto averle tutte e tre sarebbe più cioè più logico nei prossimi anni se ne abbiamo oggi dentro al portafoglio toglierci la parte che sta facendo peggio quindi che abbiamo più in perdita per metterla sulla parte che sta andando meglio chiaramente dobbiamo sempre considerare quelle che saranno le trimestrali di queste azioni qui ma noi sappiamo che c'è un punto di partenza diciamo migliore i conti sono migliori la cassa è migliore alcune alcune aziende hanno una liquidità migliore rispetto ad altre proprio per questo di solito l'azione che sta facendo peggio rischia di impantanarsi perché non riesce ad uscire da queste sabbie mobili allora ritornando all'esempio se l'azione stiamo perdendo 10% mettiamo caso unicredit e Fineco sta guadagnando il 10% anche se tutto il settore aumenterà del 10% e quindi diciamo che unicredit andrà in parallelo e riuscirà a recuperare tutto il 10% anche se un po' di più ripartendo da meno 10% comunque riuscirà ad arrivare a 0% alla fine avremo un Fineco che avrà guadagnato molto di più perché perché abbiamo visto che fa meglio meglio di unicredit e questo da cosa lo si evince facendo un parallelo col settore lo si evince dal fatto che rispetto per esempio a unicredit Fineco sovraperforma non solo unicredit ma anche intesa e soprattutto sovraperforma il settore sovraperforma il Mib per esempio sovraperforma il Mib e quindi significherà che da una parte sì noi saremmo arrivati a 0 in questo caso avremmo recuperato la perdita di unicredit ma di fatto avremmo perso un 5% perché in quel frattempo che il Mib è aumentato del 10% per dire e quindi parallelamente mettiamo conto che anche l'unicredit sia aumentato del 10% dall'altra parte avremmo visto che Fineco avrà fatto il 15% quindi alla fine tu avrai perso il 5% e non è che sei arrivato a 0 alla fine non è che non hai perso niente hai perso il 5% e quindi è solamente una questione psicologica per non farti vedere il rosso in conto che ti fa stare bene ma nella logica dei profitti non ha nessun senso avere una cosa in perdita infatti uno di questi errori lo si vede spesso nel lungo termine ci si tende infatti nel lungo termine a tenere pure le azioni che invece di fare il 10% fanno il 20% poi il 25% il 30% proprio perché i conti non vanno a posto proprio perché hanno delle trimestrali pessime e non riescono ad uscirsene da queste sabbie mobili anzi a volte ci si affonda pure nelle sabbie mobili perché come sapete più ci si muove e più ci si affonda nelle sabbie mobili e quindi nonostante si vede queste cose che sono evidenti perché le trimestrali parlano chiaro l'azione continua a scendere quindi vediamo 20, 25, 30, 40, 50 e continuiamo a non vendere invece vediamo cosa succede al contrario cosa succede se avessimo unicredit che è andato al meno 50% cosa che è capitata nell'ultimo crollo nell'ultima crisi dovuta al coronavirus e invece vediamo Fineco se noi l'avevamo da un sacco di tempo se fosse stata al più 50% giusto per dire una cifra e fare il parallelo psicologicamente noi saremmo riusciti difficilmente a toglierci unicredit dal portafoglio ma molto facilmente ci saremmo tolta Fineco che stava al 50% proprio per paura di perderlo quel 50% ma allora lo stesso ragionamento se noi pensiamo che in un futuro crescerà il settore perché se non cresce il settore bancario è chiaro che non crescerà né unicredit né il Fineco a lungo termine è un po' difficile che a lungo termine un'azienda o un'azione vada contro il settore di riferimento questo può succedere solo a breve termine a lungo termine è quasi impossibile che un'azione vada molto bene e il settore di riferimento non vada bene quindi facendo un punto di riferimento se uno pensa che il settore andrà bene e che abbiamo visto Fineco sopraperforma sempre il settore a questo punto la logica vorrebbe proprio che succedesse il contrario cioè di in quel momento che tu hai tolto il 50% di guadagno di Fineco per paura di perdere quei soldi lì di fare il contrario cioè di toglierti i soldi di unicredit la perdita di unicredit e puntare tutto su Fineco perché perché se guadagnerà il settore il 10% il 20% a questo punto non sarà un meno 30% che unicredit ma Fineco aumenterà molto di più quindi tu non avrai guadagnato il 20% di unicredit ma ripeto avrai guadagnato il 25% di Fineco e quindi convierrebbe sempre comprare Fineco non solo convierrebbe comprare Fineco ma tu nel caso vuoi chiudere la posizione su Fineco visto che hai perso dei soldi con unicredit perché l'hai chiusa precedentemente per mettere i soldi su Fineco quando andrai a chiudere la posizione e sarai in profitto riuscirai anche a compensare le minusvalenze avute da unicredit e quindi hai una doppia convenienza da una parte la sua performance di unicredit di Fineco e dall'altra parte è la compensazione invece di la compensazione avuta dalle perdite dovute alla perdita di unicredit come stavamo dicendo e questo è molto molto importante perché se noi facessimo il contrario cioè togliamo praticamente i profitti da Fineco e chiudiamo la posizione in profitto di Fineco andremo invece a pagare il 26% della tassazione chiaramente se non abbiamo minusvalenze questo è ovvio cosa che devo dire ultimamente è un pianto continuo visto che quasi tutti quelli che mi contattano hanno un sacco di minusvalenze va bene ma era giusto per farvi un esempio di quanto sia assurdo e che cosa vogliamo aggiungere non credo che ci sia molto da aggiungere se non ripetere i soliti discorsi quindi mi sembra che le riflessioni che ho fatto siano chiare ed evidenti non aggiungo altro se non iscrivetevi al gruppo cambiare tutto cambiare subito previsioni sull'economia e la finanza se ancora non l'avete fatto Patreon ringrazio chi si è iscritto ultimamente a Patreon e mi ha sostenuto fortunatamente le due aziende di cui ho parlato nei podcast privati stanno andando molto bene una sta facendo quasi il 10% da quanto l'ho acquistata l'altra comunque è stata praticamente inutile dirlo perché è stata acquistata da poco sono entrambi sul lungo termine e perché invece ha fatto i swing trading sta facendo la compensazione tra entrate e uscite si almeno dall'inizio chi mi ha supportato dall'inizio si sta trovando una bella situazione in positivo non ho nient'altro da aggiungere patreon.com slash cambiare tutto lo trovate anche nelle info nelle descrizioni come al solito vi ricordo che siete sempre a me sei tanto il fogo ne rico sotto il fogo ne rico se sotto il fogo ne rico Grazie a tutti.